Ciao, sono Fabio Faccini, esperto in campagna pay-per-click e oggi ti vorrei parlare di alcune azioni da fare per ottenere dei fan in target per la tua pagina Facebook e altre azioni da evitare per, appunto, evitare di ottenere fan fuori target per la tua pagina. Ma prima, metti mi piace alla mia pagina Facebook o iscriviti al canale YouTube. Ottenere fan in target per la tua pagina Facebook non è assolutamente facile. Ottenere tanti fan può essere più facile, basta fare una campagna di acquisizione like in Bangladesh o in India, ma ottenere fan effettivamente in target che poi vadano ad interagire con i tuoi contenuti non è assolutamente semplice. Tra le azioni da evitare ti direi sicuramente quella di invitare tutti gli amici tuoi, amici personali in Facebook a mettere mi piace alla pagina, a meno che questi non siano effettivamente in target con quello che proponi con la tua pagina. Questo è assolutamente da evitare. Un'altra cosa che ti consiglierei di limitare è creare le campagne di acquisizione like. Questo perché Facebook va ad ottimizzare queste campagne proprio per farti ottenere più like possibili e quindi tende a mostrare questi annunci alle persone che mettono mi piace a molte pagine diverse. Spesso queste persone non sono in target poi e quindi non interagiranno con i tuoi contenuti, i contenuti della tua pagina. Di conseguenza nel lungo periodo questa azione sarà controproducente. Per invece ottenere dei fan estremamente in target, quello che ti consiglio è prima di tutto creare dei contenuti super di valore, che siano video, che siano articoli, che siano foto, contenuti testuali, che siano super di valore per il tuo specifico pubblico target. Dopodiché promuovere questi contenuti con delle campagne di tipo interazione, quindi con l'obiettivo interazione. Cercare di ottenere più interazioni possibili con i post e successivamente invitare queste persone che hanno messo il mi piace ai post a diventare fan della pagina. Questo cosa comporta? Che queste persone prima hanno avuto un'interazione con i tuoi contenuti e quindi hanno già dimostrato interesse per quello che propongono. Successivamente riceveranno il tuo invito a mettere mi piace alla pagina, se accetteranno questo invito farà un'ulteriore dimostrazione che queste sono effettivamente in target. Fammi sapere cosa ne pensi, spero che questi consigli ti possono essere utili e se ti è piaciuto il video metti mi piace e condividi. Grazie per la visione!